Qui abbiamo un giubbotto, un piumino della Maxwell, il modello Amarone. È un giubbottino molto veloce, molto dinamico, sicuramente molto morbido. Anche qui parliamo di materiali che sono veramente leggerissimi. La caratteristica di questo giubbotto, che mi è piaciuta, è stata di avere questo elastichino interno alle maniche, che praticamente evita di avere un classico corsino maglia, quindi dà questa sensazione di tenere un po' più chiuso, come ha lo stesso elastichino in fondo, cercherò di farvelo vedere, per evitare che sia un giubbotto che in fondo rimanga troppo largo e punti un po' in avanti. Tre tasche, in questo caso esterne, tutte con cerniere, quindi una al petto e due tasche al lato. Abbiamo in questo caso un cappuccio, che è un cappuccio fisso, quindi non ha la possibilità di essere staccato, ma allo stesso tempo abbiamo un cappuccio costruito nel tessuto che rimane sicuramente interessante. L'altro colore di questo modello, questo bellissimo rosso, che a me piace in pratica lo modello, perché dà un tono di colore sicuramente a quello che riguarda l'estate, ma vi vorrei soffermare su una cosa. Quanto vi parlo di morbidezza, leggeretta, di queste cose, pensate, io adesso in questo momento ho una taglia 6XL davanti, come lo piego, come l'appollotto. Questa è la morbidezza, l'eccellenza di questo giubbotto e di questa luta. tagli e porti i guadalini, siamo sempre qui, una taglia avanti.